Ciao Tienes Friends, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come hai visto, parleremo della Spring, quindi la conosceremo meglio e soprattutto parleremo del perché è così importante avere un insegnante a quattro zampe nell'educazione. Innanzitutto presentiamo la Spring. La Spring è un incrocio tra Bovaro del Bernese e Bovaro dell'Entlebo, che sono due bovari svizzeri. Un incrocio nato per sbaglio in un allevamento che aveva entrambe le razze. E da ben sette anni viviamo insieme. Abbiamo fatto praticamente tutto il percorso della scuola di educazione insieme. Quindi lei ha iniziato che aveva all'età di quattro mesi e da quando aveva quattro mesi è sempre stata a lezione, sia che fossi io lo studente, sia che fossi io l'insegnante, è sempre stata a lezioni di educazione. Quindi dopo sette anni ha sviluppato veramente molte capacità, sia nelle varie attività, ma soprattutto nella socializzazione e nella comunicazione con gli altri cani. Quindi nelle mie lezioni molto spesso è una partecipante attiva, insegnando all'altro cane come comportarsi nelle varie situazioni, come comunicare, insomma da una grandissima mano ad insegnare delle cose che io neanche volendo riuscirei a fare, perché fanno parte della comunicazione appunto tra cani. Ora rispondo le tre domande principali che mi vengono sempre poste sulla Spring. La prima domanda, cosa sa fare? La Spring sa sedersi, sa sdraiarsi, sa fare tutte le attività. Probabilmente se glielo insegnassi saprebbe anche giocare a scacchi, ma non è questa l'importanza dell'avere un cane. Quindi quello che deve sapere un cane non è soltanto rispondere a dei comandi, ma di approcciarsi correttamente alle varie situazioni che gli si pongono davanti. Anche noi tutti quanti sappiamo sederci, sappiamo sdraiarci, sappiamo dare una mano, ma questa è soltanto una piccola parte delle cose che dobbiamo tenere conto la volta che ci troviamo nelle diverse situazioni. Per esempio il comportamento che noi terremo con un amico a casa nostra sarà differente dal comportamento che terremo, non lo so, in un colloquio di lavoro. Quindi è molto importante che il cane sappia come approcciarsi a tutte le varie situazioni. Anche perché se poi non c'è il comandante a comandare il proprio cane, cosa succede? È importante che lui sappia comportarsi in maniera corretta autonomamente. La seconda domanda che mi viene posta spesso è cosa fa la Spring nelle nostre lezioni? La Spring si approccia sia con cani cuccioli che con cani adulti di tutte le taglie, perché è stata ben socializzata con tutte le tipologie di cani. Il suo compito principale sta nella socializzazione, quindi insegnare agli altri cani come comportarsi. Magari aiutando i cani con i caratteri un po' più timidi a giocare con lei e quindi prendere una confidenza con un altro cane, anche se magari più grande di loro. Oppure con i caratteri più irruenti ad andare a dargli dei blocchi per cercare di tranquillizzarlo. La terza domanda che mi viene posta, un po' collegata alle altre due, è perché ci dovrebbe essere Spring nelle tue lezioni? Un po' come ti ho detto prima, io mi occupo di insegnare al compagno a due zampe delle attività volte a costruire un rapporto, una relazione e un patto comunicativo col proprio cane. Ma non riuscirei ad insegnare al cane tutta la comunicazione che viene utilizzata tra i cani, quindi come comunicare che voglio giocare, piuttosto come comunicare che non voglio più giocare, e per questo lo aiuta la Spring. Quindi lei attraverso il gioco, attraverso la comunicazione, insegna agli altri cani come approcciarsi appunto ad un cane sconosciuto. In poche parole gli insegna come vivere da cane. E anche per oggi abbiamo finito, chiamiamola Spring, la protagonista di questo video, per il salutino. Springhi! Se questo video ti è piaciuto non ti resta che mettere un bel mi piace, condividerlo e commentare dicendo cosa ne pensi e di cosa vorresti parlare. Ricordati anche di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. A questo punto ti salutiamo, quindi un saluto da Tiz. E Spring? E Spring! Di TNSProject.com